Questo qui è l'acido citrico, uno dei più preziosi alleati per le pulizie ecologiche. Oggi voglio mostrarti tutti i modi in cui lo utilizzo in casa. Per usarlo come anticalcare sciolgo in 500 g d'acqua 75 g di acido citrico. In questa fase se l'acqua è calda si scioglierà ancora meglio. Una volta fatto, travaso il tutto in una bottiglia di vetro e il nostro anticalcare è pronto. La stessa miscela la potete utilizzare anche come brillantante per la lavastoviglie. Se invece sciolgo in un litro d'acqua 100 g di acido citrico e aggiungo qualche goccia di olio essenziale alla lavanda, avrò ottenuto un favoloso amorbidente ecologico, ma la sua efficacia dipende dalla durezza della vostra acqua. Per utilizzarlo invece, per sgorgare i tubi, io verso 100 g di bicarbonato di sodio sulla bocchetta dello scarico. Poi sciolgo 30 g di acido citrico in 200 ml di acqua calda e verso la miscela nello scarico. In questo modo si sgorgerà lentamente.